pronto commissario ci ascolti anche parecchi attentamente sono tutte orecchie si è scoperto un caso di mala giustizia e allora cosa si deve fare si deve stare zitta a guardare immagino di che si tratterebbe questa volta cognini mario accusato ingiustamente di omicidio e costretta a margine in galera da innocente certo immagino sia lui a dire che innocente no ma anche noi e gli assassini che sono ancora a piede libero pare siano anzi no no noi siamo proprio sicuri che siano quelli che sanno in gestione il resort paradiso ha capito brutta gente commissario che fa sparire le persone e li sciogliono nell'acido ma non parlate tutti insieme per favore non capisco cosa state dicendo mi parlate uno per volta no e si sta parlando che quell'austriaca ammazzata l'anno scorso li arresto il paradiso l'avrà sentito parlare no ah si ho capito ma non è mia giurisdizione infatti è accaduto in provincia di livorno quindi la responsabilità ma che discosti sono scusa questo ma perché la giustizia si ferma ai confini della provincia esatto bandinelli funziona proprio così ma allora è tutto uno schifo ma fatemi capire quando dio deve mandarti all'inferno ti chiede se sei di luca fisio all'inferno vabbè quando muoio vi faccio sapere arriate a casa ecco vai grazie 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 grazie